Un giornale è un essere vivente come le piante, i fiori, gli esseri umani appunto. Cresce, cambia, si adatta all'ambiente. In questo momento, con un vento forte che spira in Italia e va a minare alcuni dei pilastri fondamentali della nostra comunità, Repubblica rappresenta una casa comune, democratica, dove ritrovarsi e scambiare opinioni, confrontarsi e soprattutto dove avere informazioni di qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.